Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come vedere che tipo di scheda video hai nel tuo computer ovviamente questo video è più anche per i portatili, quindi in questo caso se hai ricevuto un regalo e non sai che scheda video hai nel portatilo oppure hai comprato un computer e non te ne intendi di schede video in questo caso tu vai sulla barra della ricerca e cominci a scrivere dxdiag dxdiag, cerchi sopra vai su 1 di visualizzazione e qui ti dirà che tipo di scheda video hai nel tuo pc ovviamente c'è anche un altro modo per capire che tipo di scheda video hai quindi in questo caso tu vai su sidestem information su sidestem information vai su risorse, hardware, conflitti, condivisioni e qui in questo caso come puoi vedere proprio qua c'è scritto nvidia geforce gtx 1660 super questa è la mia scheda video ok quindi in questo piccolo tutorial se sei stato utilissimo su come vedere la tua scheda video nel tuo pc iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao